I medici di famiglia sulle barricate sul Green Pass, i giovanissimi che accelerano sulla vaccinazione anche in vista dell'anno scolastico che verrà, almeno secondo le prime cifre fornite dalla Regione, e la Puglia che fa segnare quota 53,8% nella percentuale degli abitanti che abbiano ricevuto almeno una dose, meglio della media nazionale, poco sopra il 52, che scende al 24,95 se si contano i pugliesi che abbiano completato il ciclo, anche in questo caso meglio della media italiana, ferma al 23,81. Da via Gentile fanno sapere che verrà recepita in tempi brevi la circolare del Ministero, che permette agli under 60 che hanno ottenuto la prima somministrazione AstraZeneca di chiedere il richiamo con quest'ultimo e non con Pfizer o Moderna, Tradotto vuol dire la possibilità di rifiutare la cosiddetta eterologa tra i più piccoli. Il conto alla rovescia è quello per il 20 settembre, data scelta per il ritorno tra i banchi, 70.000 le prenotazioni nella fascia tra i 12 e i 19 anni, al momento invece la priorità resta quella per i fragili tra i 12 e i 15, ma si entrerà nel vivo dalla fine di agosto. Di mezzo c'è l'estate appunto e il nodo Green Pass, sull'asse Bari-Roma corre la polemica, dopo il provvedimento che affida al medico di medicina generale il compito di stampare la certificazione del passaporto verde con il QR code e consegnarla al paziente in formato cartaceo. Nulla che non si possa affidare ad uno sportello tutto tempo sottratto alle cure, lamentano dalla FIMG, sindacato di categoria, chiedendo ora l'intervento della regione.